Un divieto duro, ma forse necessario, quello introdotto da una nuova circolare in Inghilterra che bandisce i cellulari a scuola, e non è solo per la durata delle lezioni, ma anche durante gli intervalli e la pausa pranzo. L'idea è quella di cercare di proteggere i ragazzi e le ragazze dai fenomeni di bullismo online, il cosiddetto cyberbullismo. Ma non solo, questa restrizione è volta anche ad aumentare il livello di attenzione in classe, nonché a cercare di lavorare sulla qualità del comportamento. Il governo britannico ha diffuso le linee guida secondo cui i presidi potranno imporre ai minori di 16 anni di tenere il telefonino spento nello zaino per tutta la durata della giornata. La ministra per l'educazione ha specificato che questo aiuterà gli insegnanti ad avere gli strumenti per agire, perché le scuole sono luoghi per apprendere e i telefonini sono, come minimo, una distrazione non richiesta.